Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie Imperatore, se con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso le sue figure più note, più particolari, cioè gli imperatori. L'imperatore di oggi è uno di quelli che non si ricorda mai nessuno, anche perché ha regnato per un regno veramente brevissimo, probabilmente tre mesi, non sappiamo neanche esattamente quali mesi del 253 d.C., questo almeno lo sappiamo per certo, e su di lui sappiamo pochissimo, ve lo dico già, sarà una pillola molto breve, in cui però cercheremo di raccontare un anno, che è meno famoso rispetto ad altri, ma ha comunque visto tre imperatori, se contiamo solo i principali, quattro, se contiamo anche il figlio di uno di questi, ufficialmente Augusto, alternarsi sul trono di Roma. Un anno che però, a differenza di quello dei quattro imperatori del primo secolo di cui abbiamo già parlato, vedrà in effetti un impero romano molto più in decadenza, anzi, come vedremo oggi, un insieme di fattori a tutti gli effetti sembra che possano farlo crollare addirittura, quell'impero. Quindi Emiliano, pur regnando veramente pochissimo, è un po' il simbolo di questa crisi del III secolo, una crisi da cui molti storici addirittura pensavano che l'impero non si sarebbe potuto mai riprendere, invece, come sappiamo, le cose poi tra qualche imperatore cambieranno. Quindi, non perdiamo altro tempo, perché altrimenti è più lunga l'introduzione di quello che vi racconterò. Iniziamo a raccontare. Prima di questo, se non siete già iscritti al canale e non volete perdere i prossimi video, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla di Imperatores e partiamo a raccontare. Marco Emilio Emiliano, questo era il nome intero, anche se ovviamente è ricordato da tutti come Emiliano, era un imperatore proveniente dal Nord Africa. Sappiamo che proveniva da Gerba, che si trova attualmente in Tunisia. Secondo alcune fonti era di origine Maura, quindi proveniva dalla sua famiglia, proveniva dalla Mauritania, ovviamente avevano la cittadinanza romana, come ci dice anche il nome. Secondo altre fonti, invece, la sua era una famiglia di provenienza libica e probabilmente si era arricchita, aveva fatto soldi, in questo caso, con il commercio. In realtà non lo sappiamo. Le fonti che narrano di questo imperatore sono spesso tarde, si rifanno a fonti magari coeve, ma che sono andate perse, quindi non sappiamo quanto fossero precise. E se andate a vedere anche la font originale, su questo imperatore ci sono spesso solo dei piccolissimi trafiletti, tanto che molte delle informazioni che abbiamo vengono in realtà dalla monetazione, dalle monete che vennero prodotte proprio durante, cognate proprio durante il suo regno. Ad ogni modo, di Emiliano e della sua vita giovanile sappiamo praticamente nulla. Anzi, sbuca quasi dal nulla nella storia romana nel 252, quando gli viene assegnato il controllo delle truppe che stanziano nella zona della Mesia. Lo vedete qui a fianco sulla cartina. Ora, ovviamente non è arrivato a questo ruolo dal nulla, sicuramente aveva ricoperto prima delle cariche, verosimilmente, come è successo per tanti altri imperatori di cui abbiamo narrato nell'ultime puntate, aveva prima ricoperto delle cariche militari o delle cariche politiche in zone meno turbolente dell'impero. Anche perché prendere il controllo all'epoca delle truppe nella Mesia, oltre che essere un ruolo di grossa responsabilità, perché era una delle zone su cui maggiormente premevano le invasioni di questo periodo, era anche ovviamente un ruolo molto importante nei confronti dello Stato, perché si prendeva il controllo di truppe numerose, ben addestrate, che come avevano dimostrato gli ultimi anni, potevano ribellarsi e portare al potere il loro comandante, e quindi si doveva essere un uomo di fiducia dell'imperatore. Ora, è difficile quasi pensare che fosse un uomo di fiducia dell'imperatore precedente, cioè Trebognano Gallo, quello che regnava effettivamente nel 252, anche perché, a tutti gli effetti, appena ne ebbe l'occasione, lo tradì. In che modo? Come ho raccontato nelle scorse puntate, in quel periodo, in quella zona, premeva il popolo dei Goti, guidato dal loro sovrano, Kniva, il quale aveva convinto tutta una serie di popoli barbari ad accompagnarlo nelle sue scorrerie dell'impero, a cominciare, ad esempio, dai Carpati, che erano stati tra i primi a superare la frontiera danubiana. Contro questi barbari, diciamo così, si erano già scontrati tantissimi imperatori, e addirittura nel 251, come abbiamo raccontato due puntate fa, nella battaglia di Abritus, un imperatore c'era anche morto, Decio, che era morto insieme al figlio e regno etrusco, appunto nella battaglia di Abritus nel 251. Alla morte di Decio, che qualcuno vuole, causata da Trebognano Gallo, l'imperatore che gli successe, che in quel momento comandava una parte dell'esercito di Decio, Trebognano aveva deciso di non continuare la campagna contro i Goti, che fino a quella battaglia era andata in realtà abbastanza bene, Decio gli aveva sconfitti più volte, li aveva costretti a rientrare verso il loro territorio, ma bensì Trebognano si era accordato proprio con Cniva e con gli altri capi, perché Roma pagasse un pesante tributo ai Goti, a cui peraltro era stato anche concesso di tenersi il bottino e i prigionieri delle razzie, cosa che aveva scontentato tantissimo, ma Trebognano Gallo aveva deciso di pagare un tributo annuale ai Goti, affinché non entrassero nell'impero romano. Era una scelta che ovviamente, come vi dicevo, non era piaciuta a tanti, ma che forse era stata costretta, un po' perché Trebognano si trova in una situazione comunque di inferiorità rispetto a quello di Decio, perché una buona parte delle truppe romane era stata perduta, un po' perché in effetti l'impero in quel momento traballava fortemente, non c'erano solo i Goti a spingere sulle frontiere imperiali, ma c'erano anche i Sasanidi che stavano invadendo l'Oriente, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, arrivarono fino ad Antiochia. Trebognano però aveva soprattutto bisogno di tornare a Roma per farsi ufficialmente riconoscere come imperatore, quindi aveva deciso di pagare questo tributo. Ora, questo tributo ovviamente veniva raccolto nelle casse dell'impero e poi veniva fisicamente portato, perché ovviamente non esistevano i bonifici, quindi bisognava fisicamente portare questo tributo fino nei territori dei Goti, e chi si doveva occupare, secondo alcuni storiografi, di questo tributo era proprio il governatore della Mesia, il quale riceveva il tributo da Roma e si doveva poi occupare di farlo arrivare ai Goti. L'anno successivo a questo accordo, però nel 253, il governatore della Mesia, cioè appunto il nostro Marco Emilio Emiliano, decise di non pagare questo tributo. Ora, su questa causa vi sono in effetti delle fonti molto diverse. Allora, quella che passa un po' per la maggiore, dice che appunto nel 253 Emiliano, che ricevette questo denaro dall'imperatore, decise di non versare questo denaro, questi preziosi, il tributo, insomma, decise di non mandarlo ai Goti, perché, beh, secondo queste stesse fonti, la causa furono i suoi soldati, che erano scontenti di quella trattativa, credevano che fosse vergognoso pagare i Goti, preferivano tenersi probabilmente loro tutto quel denaro, e soprattutto credevano che fosse vergognoso che un imperatore romano avesse fatto un accordo di questo tipo. E quindi Emiliano, loro comandante, decise di cavalcare questo loro malcontento per cercare di diventare imperatore. Secondo altre fonti, invece, il tributo arrivò normalmente, ma chi non si accontentò di questo tributo fu Cniva, che, capito che poteva mungere l'impero, decise comunque di rompere l'accordo e di tornare a razziare l'impero romano. Secondo un'ultima fonte, invece, il problema fu a Roma. Trebognano Gallo non era riuscito a raccogliere abbastanza denaro per poter pagare questo tributo. Fatto sta che di questa situazione, come abbiamo già raccontato nella scorsa puntata, ne approfittò subito il nostro Emiliano. I Goti tracimarono oltre l'ime, se entrarono nell'impero romano, iniziarono una razzia che li spinse nuovamente attraverso i Balcani e iniziarono anche a puntare più verso l'Asia minore, anche se ci arriveranno poi, ne parleremo nella prossima puntata. Ma, mentre, secondo alcune fonti, stavano iniziando l'invasione, secondo altre, mentre l'avevano già fatto e stavano tornando, vengono intercettati proprio dalle forze di Emiliano, che riuscirono ad infliggere loro una grossa batosta, secondo alcune fonti, all'esercito principale, secondo altre fonti, ad alcune parti di questo esercito. Immaginatevi che i barbari non avanzavano come un unico esercito, ma, una volta superate le difese, si dividevano in tante bande, ovviamente per razziare, e poi si riunivano per gli scontri. Ad ogni modo, il nostro Emiliano riuscì con le sue truppe a sconfiggere queste forze barbare e a ricacciarle indietro. A questo punto, le sue truppe, prese da questa vittoria, secondo alcune fonti anche e soprattutto convinte dal denaro che era stato recuperato e poi distribuito loro, decisero di elevare Emiliano a imperatore. Nelle ultime puntate, questo l'abbiamo visto succedere tante volte, delle truppe ritengono che il loro comandante sia l'unico vero imperatore. Siamo ovviamente in un periodo di instabilità, in cui gli imperatori non si può dire che possano governare con mano ferma, e quindi è molto facile che si possa pensare che un altro uomo sia in grado di agire meglio rispetto a chi in quel momento governa Roma. Ed è esattamente quello che succede in Mesia. Ora, Treboniano Gallo a questo punto si rende conto che Emiliano ovviamente rappresenta un forte rischio. Rappresenta un forte rischio perché dalla sua ha delle truppe ben addestrate, meno numerose rispetto a quelle disponibili per Treboniano in Italia, ma comunque ben addestrate e probabilmente in grado di battere. Insomma, teme un po' che possa succedere quello che era successo con Decio, che con le sue truppe, meno numerose rispetto a quelle di Filippo l'arabo, era comunque riuscito a sconfiggerlo a Verona. E quindi, per non ripetere lo stesso errore, Treboniano Gallo chiese aiuto ad un comandante che fino a quel momento era rimasto a lui fedele, che si chiamava Valeriano. Ora, Valeriano in quel momento comandava delle truppe nella zona della Germania, o meglio, era ufficialmente comandante in Rezia, ma aveva sotto di lui il comando di molte altre legioni stanziate lungo l'imes germanico. Legioni che in quel periodo avevano ovviamente una spinta meno forte rispetto a quelle sull'imes danubiano, ma che comunque erano decisamente più addestrate alla battaglia rispetto a quelle italiche. Il nostro Valeriano era stato probabilmente un uomo già di fiducia di Decio. Addirittura si dice che fosse rimasto a Roma quando questi era partito per andare a combattere, e poi a morire ad Abritus per difendere l'ultimo figlio, quello stiliano, che poi aveva governato brevemente con Treboniano Gallo. Ma poi era stato premiato da Treboniano ed era stato mandato a comandare truppe in Germania. Valeriano ricevette l'ordine di tornare verso l'Italia, ma dato che doveva raccogliere l'esercito per avere le forze sufficienti per affrontare Emiliano, si trovò a necessitare di tempo per scendere in Italia. Di questo tempo ne approfittò Emiliano, il quale molto rapidamente, ovviamente per non farsi prendere tra due fuochi, attraversò i Balcani, entrò in Italia e calò verso sud. A questo punto, a questo punto, Treboniano Gallo ovviamente doveva affrontarlo, non poteva lasciarlo arrivare direttamente a Roma. E così, dopo aver convinto i senatori a nominarlo nemico pubblico, una cosa che ormai diventava assolutamente comune, raccolse le forze che aveva e insieme al figlio Volusiano fu costretto ad andarlo ad affrontare. Il fatto che i due eserciti si siano affrontati nella zona di Terni ci fa capire quanto Treboniano Gallo avesse letteralmente atteso fino all'ultimo l'arrivo del suo avversario, sperando probabilmente che in qualche modo Valeriano potesse raggiungerlo e portare le sue truppe. Alla fine poi i due eserciti si scontrano, si scontrano nella zona di Terni. Anche qui non sappiamo come si svolsero gli avvenimenti. Tutte le fonti citano semplicemente la battaglia, ma non ci dicono come sia avvenuta. Secondo alcune fonti, la battaglia fu una netta sconfitta da Perre, per Treboniano Gallo, che poi fuggì e venne ucciso dai suoi stessi uomini. Secondo altre fonti, invece, fu tradito direttamente dai suoi uomini e ucciso praticamente sul campo di battaglia. Ma insomma, anche su questo, ripeto, ci sono varie fonti, anche perché, come dicevo all'inizio, scrivono molti anni, alcune volte, alcuni secoli, dopo gli avvenimenti. A questo punto, Emiliano, finalmente, rimase padrone dell'Italia. E dico dell'Italia, non dell'Impero, perché in realtà la situazione del resto dell'Impero continuava a essere molto instabile, con lo stesso Valeriano, che, nonostante il Treboniano Gallo fosse morto, aveva deciso comunque di scendere in Italia. Le sue legioni lo avevano proclamato nuovo imperatore, era morto Treboniano, bisognava farne un altro, e lui si era deciso comunque a scendere in Italia per venire ad affrontare Emiliano e prendersi il trono. Insomma, la situazione di Emiliano, fin dall'inizio, non si può dire che fosse esattamente delle più stabili. Non sappiamo moltissimo di cosa stesse succedendo nel resto dell'Impero, se ci fossero altri comandanti che si stavano ribellando, ma è verosimile pensare che in effetti molti comandanti stessero quantomeno scegliendo da che parte stare. Il regno di Emiliano, come vi dicevo, fu veramente molto molto breve e quindi non ebbe l'occasione di fare grosse attività, grosse leggi, ovviamente non ebbe il tempo di fare costruzioni, anzi, tutto del loro che riuscì a raccogliere verosimilmente lo utilizzò per l'esercito per poter affrontare Valeriano. Sappiamo che quando si presentò davanti al Senato per essere riconosciuto, peraltro quello stesso Senato che pochi giorni prima lo aveva nominato nemico dello Stato e che non si fece nessun problema a riconoscerlo come nuovo imperatore, quando si presentò lì davanti per convincere i senatori, questo viene raccontato, ad accettarlo come nuovo imperatore, non solo promise che una volta preso definitivamente il potere sarebbe riuscito a scacciare i goti e anche i sasani, tra poco ne parleremo, ma che addirittura, quasi come gli antichi eroi della Repubblica, una volta che avesse ristabilito la situazione a Roma si sarebbe ritirato dalla carica di imperatore, sarebbe rimasto semplicemente come generale e avrebbe lasciato che fosse il Senato a scegliere il nuovo imperatore al posto suo. Devo essere sincero, questa sa di una leggenda, non sembra molto credibile o quantomeno non difficile che potesse veramente decidere di fare una cosa del genere. A netto di Valeriano però, la situazione nell'impero stava diventando assolutamente critica. I goti, una volta che l'esercito della Mesia se n'era andato perché aveva seguito Emiliano, avevano iniziato nuovamente ad attraversare le frontiere, una cosa che era già successa all'epoca di Decio, se ne vanno le truppe e ovviamente i barbari ne approfittano, anche se poi la loro prima vera e propria invasione sarà solo la fine dell'anno quando poi Emiliano in realtà non ci sarà più. L'Oriente è in fiamme, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, i Sasani di Sapore hanno invaso la Siria, sono arrivati fino ad Antiochia che all'epoca era la terza città dell'impero e proprio nei mesi in cui sono avvenuti gli avvenimenti di cui vi ho parlato, pochi mesi prima, l'hanno razziata, conquistata e hanno fatto talmente tanto bottino che nei mesi in cui governa Emiliano decisero di tornare indietro nelle loro terre per riportarlo, ovviamente per non perderlo. Insomma, la situazione dell'impero che gli aveva lasciato Trebognano Gallo era veramente, veramente disastrosa. A peggiorare la situazione, da quattro anni nell'impero, ma probabilmente questi sono gli anni in cui esplode definitivamente, sta diffondendosi la cosiddetta peste di Cipriano. Cipriano sarebbe San Cipriano che all'epoca era vescovo di Cartagine e che raccontò di questa peste in un suo libro che si chiamava De Mortalitate. Insomma, direi che il titolo è abbastanza evocativo. La peste di San Cipriano che infurirà per poco più di una decina d'anni è una di quelle pestilenze meno ricordate, ma comunque molto distruttive. Esattamente come quella Antonina, infatti privò l'impero di mano d'opera, privò l'impero di soldati, indebolì le sue legioni in un momento di grave, grave scompensa. Se il periodo Antonino quantomeno aveva visto delle guerre civili limitate, in questo caso invece le continue guerre civili avrebbero forse necessitato di maggiori uomini, uomini che però non c'erano proprio a causa della peste, senza parlare appunto di tutto l'indebolimento del comparto economico, a cominciare da quello orientale. Che cosa fosse questa peste di San Cipriano? Ovviamente non lo sappiamo. I termini peste non deve, esattamente come nel caso della peste Antonina, far pensare fisicamente allo Iersinia pestis, quindi al bacillo della peste come la intendiamo dal punto di vista moderno. Il termine peste è un termine usato anche successivamente per indicare qualunque tipo di pestilenza antica. Secondo alcuni poteva essere il primo arrivo del morbillo, pensate, secondo altri potrebbe essere una nuova infezione da vaiolo simile appunto a quella della peste Antonina, anche se, devo essere sincero, la maggior parte degli storici sono contrari a quest'idea che è abbastanza antica e che si pensa però sia falsa, la maggior parte si concentra sul morbillo, pensate che dalla descrizione che ne viene dato alcuni pensano addirittura ad un perduto e non più conosciuto bacillo simile a quello dell'ebola, ovviamente meno mortale ma che comunque dava delle febbri emorragiche, quindi con perdita di sangue, ma questo non lo sappiamo, verosimente non lo sapremo mai, sicuramente quello che sappiamo è che in quegli anni l'impero era assolutamente a pezzi. Intanto, mentre Emiliano si trovava a dover affrontare tutti questi problemi, per non dire di peggio, il nostro Valeriano era riuscito finalmente a raccogliere il suo esercito e con appena tre mesi di ritardo, appena tre mesi di ritardo, era riuscito ad arrivare in Italia, tanto che Emiliano fu costretto a raccogliere le truppe e ad andargli incontro. Forse l'unica differenza rispetto agli imperatori precedenti è che ci andò incontro da solo, perché non aveva, a differenza di Trebognano Gallo, a differenza di Decio, a differenza di Filippo l'arabo, non aveva cercato di creare una dinastia. In effetti si era sposato con una donna proveniente probabilmente anche lei dal Nord Africa che si chiamava Cornelia Supera, che però si era sposato in realtà praticamente pochi mesi prima la sua presa di potere, anzi probabilmente era stato anche un legame politico a causa proprio della nobiltà della donna. Non l'avevano ancora fatto in tempo ad avere figli e quindi non era ancora stato in grado di creare questa dinastia e quindi per una volta ci risparmiamo l'augusto collaterale come c'era stato per altri imperatori. Quindi Emiliano andò incontro da solo insieme alle sue truppe al suo avversario e i due eserciti si scontrarono grossomodo nella zona di Spoleto. Ora non sappiamo in che mese successe potrebbe essere successo secondo alcune interpretazioni a luglio secondo altre interpretazioni a settembre del 253 e l'unica cosa che sappiamo è che il regno di Emiliano durò tre mesi di fatti non sappiamo neanche esattamente quando iniziò questo ci fa capire anche quanto le informazioni su questo periodo siano poco precise. I due eserciti si scontrano nella zona di Spoleto ancora una volta è possibile che le truppe di Valeriano fossero riuscite a battere quelle avversarie e che Emiliano sia morto proprio durante i combattimenti secondo altre fonti però le truppe di Emiliano assolutamente non combatterono contro quelle di Valeriano forse perché corrotte dal denaro forse perché spaventate dal maggior numero e dalla maggiore forza di quelle che le stavano affrontando pare che Emiliano non fosse riuscito a raccogliere molte altre truppe oltre a quelle che già aveva d'altronde insomma l'Italia affrontava praticamente una guerra civile ogni due anni non dovevano essere rimasti molti uomini in armi pestilenza a parte ebbene secondo altre fonti appunto le truppe di Emiliano decisero di abbandonarle Emiliano cercò di scappare forse per tornare verso Roma ma venne raggiunto in una zona detta del ponte sanguinante che è un ponte di epoca augustea che esiste ancora adesso e che potete trovare a Spoleto solo che si trova sottoterra perché è stato quasi completamente ricoperto in parte murato ma si può andare a visitare bene secondo la tradizione proprio su quel ponte l'imperatore Emiliano ormai ex imperatore Emiliano venne ucciso e consegnato nelle mani di Valeriano il suo destino ovviamente fu quello degli imperatori usurpatori il suo nome venne dimenticato cancellato da quelle pochissime iscrizioni che aveva fatto anche la moglie pare che venisse uccisa forse prima dell'arrivo dell'imperatore forse per ordine dell'imperatore stesso una volta che questi fu a Roma e il senato che lo aveva nominato nemico pubblico poi lo aveva fatto imperatore dopo tre mesi non si fece nessun problema a dimenticarlo a sua volta e cancellare anche il ricordo di questo imperatore di cui praticamente ci rimane solo qualche moneta che ci racconta questa sua idea di impero c'è un'ultima curiosità secondo alcune fonti quando Valeriano arrivò a Roma si trovò davanti un comandante rimasto fedele a Emiliano il quale nel mentre si era fatto nominare imperatore che si chiamava Silbannaco anche questa però non è una una certezza perché secondo alcuni Silbannaco sarebbe appunto un comandante di Treboniano che si fece nominare imperatore alla sua morte e che affrontò Valeriano ma venne probabilmente ucciso dalle sue stesse truppe secondo altre fonti invece sarebbe pensate anche lo spostamento temporale sarebbe un usurpatore della zona della Germania grosso modo quindi del nord dell'impero dell'epoca di Filippo l'arabo questo perché abbiamo delle monetazioni che sono discordanti dal punto di vista del tempo in cui vennero coniate e che non permettono di definire esattamente né l'anno né la sua posizione capite quanto ricostruire questo periodo sia difficile ad ogni modo che anche fosse stato Roma non sarebbe riuscito a fermare Valeriano e l'imperatore divenne appunto Valeriano che come vedremo nella prossima puntata avrà un regno molto 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 violento dal punto di vista militare ma ne parleremo nella prossima puntata io mi fermo qua spero che questa puntata vi sia piaciuta ho ricostruito la storia di Emiliano mi rendo conto di aver ripetuto alcune parti ma purtroppo questo è quello che c'è su questo imperatore spero di avervi quantomeno incuriosito se volete potete riascoltare questa e le altre puntate di Imperatore qui sul canale in descrizione c'è la playlist con tutti gli imperatori anche quelli che hanno una vita un po' più lunga diciamolo chiaramente oppure potete riascoltarla sul nostro podcast anche quello in descrizione e per il resto io come sempre vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pide lo uscite fino adesso certo che però un filmetto una serie su questo periodo romano sarebbe fantastico a presto ciao ciao